Ha devastato gran parte dell'area di Massarosa circa due settimane fa. Adesso parliamo di siccità, ne abbiamo parlato molto in questa torrida estate. C'è un nuovo allarme, l'ennesimo, che arriva da parte di Coldiretti Toscana. Per l'associazione ci sarebbero alcuni settori a rischio a causa delle alte temperature. Due su tutti, quelli dell'olio e del vino. È uno dei periodi di siccità più duri quello che stiamo vivendo e quello contro il quale stanno combattendo le nostre aziende agricole. E non tanto per la mancanza di acqua, ma anche per la prolungata e continua esposizione alle alte temperature. Si sta parlando di settori che da soli rappresentano circa il 60% della produzione agricola regionale della Toscana. Stimiamo nel 95% del territorio, il territorio interessato è condizionato dalla siccità, quindi tutta la regione è toscana. Agricoltura in difficoltà a causa della prolungarsi delle alte temperature. L'allarme arriva da Coldiretti Toscana. Tanti i settori in crisi, tra tutti quelli del vino e dell'olio. Questa situazione si trascina ormai nella nostra regione dalla fine del mese di maggio e ha seriamente compromesso diverse colture. Pensiamo all'olivo, dove ci aspettiamo una contrazione di produzione importante dovuta al fatto che le alte temperature iniziali nel mese di maggio hanno drasticamente ridotto la legagione, cioè il passaggio da fiore a frutto per quanto riguarda l'oliva. Ma anche altre coltivazioni hanno subito perdite importanti, pensiamo ai cereali, una cui campagna ormai è terminata. Ma si stimano perdite di produzione anche nel settore vitivinicolo, quindi uno dei fiori dell'eccellenza della produzione toscana, dove se comunque fortunatamente si pensano, si stimano a un'annata di alta qualità, però c'è una contrazione produttiva importante anche in questo settore. E a proposito delle alte temperature, continuano a scendere le acce.